La cura di Salvatore Oriana La cura di Salvatore è una ricerca e una serie semplificata di workshop, solamente alcuni di quelli possibili perché in effetti si aprono preterie di possibili sperimentazioni. I Salvatore Oriana sono trovati a dover ricomporre il loro quadro esistenziale, come sempre succede quando all'improvviso nella tua vita o quella di una persona a te molto cara, subentra una diagnosi spiazzante come quella di un cancro al cervello. Devi ricomporre il mosaico esistenziale sapendo che non potrai utilizzare le stesse tessere di prima, qualcuno la dovrai proprio sostituire, qualcuno la dovrai modificare, certamente ne devi introdurre di nuove. E loro però hanno scelto di fare tutto questo non chiudendosi in se stessi, non chiudendosi nella malattia, non chiudendosi nell'ospedale, ma hanno deciso di fare questo insieme agli amici e insieme al mondo. Nell'agosto del 2012 siamo con mia moglie in bicicletta tra Passau e Vienna, quando io ricevo una telefonata sul cellulare, ed è Salvatore che mi racconta, in realtà in maniera un po' confusa, di una sua caduta in piscina e mi chiede il consiglio per il consulto di un neurologo. Appena tornata a Roma incontro Salvatore Oriana, ci dobbiamo vedere tra l'altro perché dobbiamo fare insieme delle cose in un massimo universitario e in quell'occasione Salvatore mi annuncia che ha intenzione di craccare la sua cartella clinica per metterla poi in formato aperto a disposizione di chiunque voglia collaborare a quella che lui già in quella fase chiama la sua cura open source. Io sinceramente mi gelo quando sento questa cosa, anche se non reagisco, anche se non lo devo a vedere, sono un uomo di comunicazione che ha dovuto gestire spesso comunicazioni di crisi. Cerco di appurare se loro abbiano sensazione di che cosa vuol dire un'esposizione mediatica, inevitabilmente mediatica, perché mi chiedo se ce la faranno a gestire i ritorni che saranno massicci, che saranno sconsiderati in alcuni casi, in cui dentro ci sarà di tutto, e gestirli con la serenità dovuta e non con il panico di perdersi quelle informazioni che potrebbero essere utili, cioè in pratica mi pongo proprio il problema dal quale ho cominciato il libro, come potranno gestire l'information overload. Dopo qualche giorno ricevo un'email da parte di Salvatore Oriana, c'è un link dentro, clicco su quel link e mi appare il volto di Salvatore, il suo look da moicano, e le sue prime parole sono Hello, I have a brain cancer. Devo dire che ho spento subito. Nei giorni successivi ho pensato lungo quanto fosse, come dire, coraggiosa, pericolosa nello stesso tempo, ma è importante questa scelta perché finalmente era un approccio totalmente diverso alla malattia. E scrivo un post, un post che pubblico su Tech Economy, il cui titolo è Non sprecate il male, fateci qualcosa, perché mi sembra questa la lezione che proprio ci viene dalla vicenda di Oriana e Salvatore. E sì, alla fine ci hanno fatto qualcosa, con il loro male. Il loro male è diventata la cura. Ma questo non è, come dire, un bel romanzo a lieto fine o a finale drammatico, come spesso succede nella letteratura, sia pure nobilissima, sul cancro o nei cancer movie. No, questo vuole essere un punto di partenza. Oriana e Salvatore non pretendono di aver creato un modello, di aver dato un metodo da seguire pedisseguamente. Sono contenti di aver vissuto e di aver detto che ci sono delle strade alternative e di avercele offerte. Nell'epoca dell'economia della coscienza, secondo me, hanno fatto l'operazione più coerente, quella di connettere le persone, di connettere i saperi, di connettere le speranze.